Mi hanno fatto venire qui in piazza e io ne approfitto per dirvi, per cominciare, tre parole. E le parole sono queste. Io sono qui, io sono qui e resto qui più determinato e più convinto di prima. Se qualcuno pensava di intimidirmi e di intimidirmi, si è sbagliato di grosso e resterà deluso. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info